Benvenuti cari telespettatori di Rossini TV per questo nuovo appuntamento con il Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine, l'unico approfondimento sul territorio di Valle Foglia e i comuni limitrofi. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione oppure all'email vallefoglia-rossinitv.it E apriamo il nostro telegiornale parlando di rifiuti, visto che il comune di Montelabate ha approvato negli ultimi giorni una modifica sulla raccolta dei rifiuti domestici. Per maggiori dettagli vediamo il servizio. Pierluigi Ferraro, assessore all'ambiente del comune di Montelabate, per parlare di un tema che è uscito negli ultimi giorni, è stata approvata la modifica per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti domestici per i residenti del comune di Montelabate. Ci può spiegare queste novità? Sì, va fatto un escursus. Nel 2015 nel piano regionale rifiuti, quindi della regione Marche, si parla per la prima volta di tariffa puntuale. Cosa si intende per tariffa puntuale? Che praticamente da quando verrà attivato ogni cittadino pagherà i rifiuti effettivamente per quello che produce e non più sui metri quadrati della casa. Va da sé che la bolletta Tari è divisa in due parti ogni anno quando noi la paghiamo. Una parte sono i costi fissi e una parte sono i costi variabili. La parte fissa sarà sempre quella. La tariffa puntuale andrà a incidere sulla parte variabile. E lì un bravo cittadino, un virtuoso cittadino che produce meno rifiuti riuscirà a risparmiare rispetto ad esso anche un 20-25%. Per applicare la tariffa puntuale bisogna cambiare il sistema di raccolta. I sistemi di raccolta, e infatti questo è stato messo anche nel piano d'ambito, sono di due tipi, quelli per cui si può applicare la tariffa puntuale. Il primo è il porta-spinto di tutte le frazioni merceologiche, il che significa che dobbiamo tenere in casa tanti bidoncini e aspettare che una volta, due volte alla settimana, passa l'operatore a ritirarceli. L'altro sistema invece è quello che è uscito ultimamente perché la tecnologia è sempre migliore, è quello dei cassonetti informatizzati, che non sono altro che i cassonetti come questi attuali, quelli che abbiamo e quelli che stiamo utilizzando, con l'unica differenza che anziché avere il libero accesso, c'è uno sportellino che si apre e si chiude, in base alla scheda che uno mette quando va a conferire il rifiuto. Registra che l'utenza con quel numero, quel giorno ha versato, ha conferito un sacchetto di carta oppure un sacchetto all'interno del vetro. Qual è il numero più o meno di cassonetti che verranno distribuiti nel comune di Montelabate? Qual è l'investimento? E soprattutto quali saranno le tempistiche per far sì che i cittadini possano usufruire di questo servizio? Se non ricordo male, siamo sui 400 e qualcosa cassonetti per un totale di 700 mila euro che, ripeto, non andranno nelle bollette tari. Questi soldi non li pagherà l'amministrazione comunale, non li pagherà il gestore, ma sono finanziati direttamente dallo Stato e quindi saranno esclusivamente tutti i soldi che ci daranno lo Stato se chiaramente presentiamo un buon progetto. Per quanto riguarda il cronoprogramma, Marche Multiservizi ci ha dato sapere che il 2022 verrà utilizzato appunto per recepire tutte le risposte dei comuni per confrontarsi col Ministero della Transizione Ecologica. Marche Multiservizi che deve cambiare questo sistema di raccolta e mette i cassonetti informatizzati dovrà mettere a bando i cassonetti informatizzati perché lo fanno varie aziende. Questo sarà nel 2023 quindi e penso che da quello che è dato sapere nel primo semestre del 2024 cominceranno a mettere i cassonetti lungo le strade. E anche il comune di Vallefoglia segue la scia del comune di Montelabate approvando l'introduzione dei cosiddetti cassonetti intelligenti per l'ottimizzazione delle raccolte e da accesso controllato dei conferitori. In diversi comuni italiani il sistema dei cassonetti informatizzati è già attivo da diversi anni e permette di ottimizzare la raccolta differenziata con notevoli benefici non solo economici a vantaggio dei singoli utenti ma anche in quanto consente di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti a vantaggio di un minor inquinamento ambientale. E ci sono importanti novità per quanto riguarda la struttura in degrado presente nella zona di bottega. Il procuratore fallimentare infatti ha avviato negli ultimi giorni i lavori di manutenzione messa in sicurezza dello stabilimento limitandone la pericolosità presentata soprattutto dal tetto dell'edificio che è stato abbattuto. La limitata disponibilità economica non permetterà per ora di ristrutturare a pieno la struttura ma solamente di salvaguardare la salute dei cittadini. L'immobile è in attesa di un acquirente e solamente in questo modo potrà avvenire un rifacimento completo dell'edificio. Edificio che ricordiamo non è di proprietà del comune ma bensì di un privato. E facciamo ora il punto sulla Casa della Salute visto che alcuni servizi della struttura sanitaria con sede a Montecchio di Vallefoglia non sono ancora stati ripristinati e il sindaco di Vallefoglia Palmi Rucchielli ne chiede il riattivamento. Vediamo. Il tema degli ultimi giorni è l'ampliamento della Casa della Salute si ritorna a una struttura che può essere completa per la città di Vallefoglia e non solo? Ma io nei miei diversi ruoli di questi anni ho sempre fatto una grandissima battaglia per avere quei due milioni di investimenti su una delle più belle case della salute delle Marche. Oggi ci sono dei soldi per rafforzarla potenziarla nel PNRR che sta discutendo il Consiglio regionale proprio in questi giorni. Credo al Presidente della Giunta regionale all'assessore Saltamartini di vedere se si riesce a rinserirla perché nella prima ipotesi parrebbe che non ci sia anche se l'assessore si era un po' impegnato. quindi è importante perché qui ci sono più di 50.000 abitanti in questi 4-5 comuni la Casa della Salute si può fare tutta la medicina generale del resto i fondi del Parlamento Europeo dell'Europa sono per rafforzare la medicina territoriale e non strutture ospedaliere strutture ospedaliere devono essere efficienti ma se tutti i servizi importanti si fanno dentro le case della salute o gli ospedali di comunità è chiaro che uno non va nell'ospedale generale se non per le materie molto acute insomma quindi medicina del lavoro medicina sportiva consultorio familiare tutte le attività che possono essere che dovrebbero essere fatte e poi diciamo l'apertura sabato mattina tutti gli uffici sono aperti quelli comunali non si capisce perché non deve essere aperta e poi la guardia medica non si capisce perché uno deve andare a Pesano se hanno necessità di urgenza intasare il pronto soccorso perché poi se non la trovano nemmeno a Pesano vanno a intasare il pronto soccorso vaccini come sta andando la situazione per quanto riguarda la vaccinazione dei più piccoli dai 5 agli 11 anni e non solo ma noi abbiamo ringraziato la regione i dirigenti delle strutture che si sono adoperati i medici pediatri i medici di medicina generale che hanno consentito di fare i vaccini ai bimbi fino a 10-11 anni diciamo al mattino e diciamo per gli adulti per la terza dose quindi due giorni a settimana mercoledì e venerdì abbiamo ricordato e diciamo abbiamo detto ok finalmente si è capito che è importante e poi se si potesse fare come è avvenuto fino adesso i tamponi hanno dovuto andare a pagare nelle farmacie c'è una struttura pubblica che lo può fare gratuitamente non si capisce le ragioni per le quali la struttura non debba funzionare al meglio e parlando sempre di vaccini il comune di Montelabate ha annunciato sulla sua pagina facebook che mercoledì 23 febbraio farà tappa a Montelabate il camper vaccinale il mezzo sosterà presso la struttura della biblioteca in via Kennedy dalle ore 9 alle ore 13 facilitando l'accesso alla vaccinazione per recarsi sul posto non servirà alcuna prenotazione ma basterà presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità avere almeno 12 anni e compilare gli appositi moduli il punto vaccinale mobile darà la possibilità a tutti di ricevere la prima inoculazione il richiamo della seconda dose solamente se contattati via sms dall'asur oppure la terza dose e sempre di salute si tratta quando si parla di vista e di miopia negli ultimi anni infatti sono in circolazione delle innovative lenti che permettono di limitare e prevenire la miopia nei giovani soggetti vediamo dal 2021 sono uscite tutta una serie di nuove novità per quello che riguarda il contenimento e la prevenzione del peggioramento miopico oggi vi voglio parlare di Myosmart o di Stellest della Essilor sono due tipi di aziende che fanno due tipi di lente sostanzialmente identiche che tendono a prevenire il peggioramento di miopia nei giovani soggetti tendenzialmente si parla di ragazzini che vanno da 6-18 anni l'utilità di questa lente è quella non di fermare magari se riuscisse ma sostanzialmente di contenere il peggioramento miopico nell'ambito della crescita e nello sviluppo del bambino questa è una lente innovativa che è uscita come dicevamo a inizi 2021 dando degli ottimi risultati perché gli studi fatti in Asia nei 5 anni precedenti ha dimostrato un rallentamento della miopia tra il 60 e il 67% in questo 2021 tutte le lenti vendute ad oggi hanno dato degli ottimi risultati è ovvio che io nel mio piccolo posso fare poca statistica ma sostanzialmente a livello nazionale i dati ci confortano cosa importante ovviamente sono i controlli periodici perché i bambini una volta iniziato il percorso essendo un vero e proprio trattamento del contenimento miopico bisogna sottoporli a controlli periodici che tendenzialmente sono fatti una volta ogni 6 mesi tra il controllo della vista il controllo della lunghezza assiale tutta una serie di valutazioni che fanno sì di poter tenere sotto controllo gli eventuali peggioramenti nel giovane miope cosa può fare un genitore per cercare di aiutare anche il proprio figlio quali accorgimenti può avere come genitori possiamo cercare di far usare il meno possibile tutti quelli che sono i dispositivi come cellulari tablet e computer perché il prolungato uso della vista a distanza ravvicinata accelera ed aumenta il peggioramento miopico laddove possibile almeno due ore al giorno di luce naturale quindi stare all'aperto e non stare sempre chiusi in casa ovviamente nel periodo invernale un pochino più difficile nel periodo estivo sicuramente più semplice quindi tra 10-20 anni non ci saranno più persone se utilizzano questo accorgimento che gli mancheranno 6-7 gradi allora le previsioni parlano del 55% della popolazione in Europa nei prossimi 50 anni che sarà miope parliamo di popolazione giovanile ovviamente l'utilità di questa lente non è semplicemente rallentare del peggioramento della miopia noi dobbiamo considerare che una elevata miopia può portare poi a patologie oculari ma l'obiettivo è quello di ridurre le miopie per ridurre tutte quelle che sono poi le condizioni patologiche associate alla miopia perché una miopia elevata può portare comunque a problemi di retinopatia e di maculopatia perché più l'occhio cresce più la retina si assottiglia possiamo dire sicuramente che se si comincia un trattamento in età precoce possiamo rallentare peggioramente i miopici e di conseguenza ridurre assolutamente la miopia nei giovani quindi sì fra 20 anni anziché avere miopie di 5, 6, 7 diotrie possiamo avere miopie di 3, 4 diotrie perché questa non è una lente che deve bloccare la miopia ma deve comunque ridurne la crescita e concludiamo il nostro TG parlando di sport e partendo dalla pallavolo la Megabox Vallefoglia è infatti stata sconfitta per 3, 7 a 0 al Palla Carnaroli di Urbino da un cuneo molto più attrezzato le ragazze di coach Bonafede hanno cercato di giocarsela fino all'ultimo punto uscendo a testa alta contro una formazione che in classifica di sta ora 13 punti 12 invece sono quelli ottenuti fino ad ora dalla Megabox che rimane a due lunghezze dalla zona retrocessione passiamo ora al calcio locale che è sceso in campo per la prima volta nel 2022 dopo lo stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria nel campionato di eccellenza c'è stato subito un primo passo falso per l'Atletico Gallo che è stato battuto in trasferta dalle Valdichienti Ponti per 3 a 0 in promozione è arrivata una vittoria di misura per il K-Sport Montecchio che dalle mura nemiche delle Moie Vallesina è uscito trionfatore vincendo di misura per 1 a 0 agganciando così la zona playoff 0 punti invece per il Valfoglia che è stato sconfitto per 1 a 0 dal Villa San Martino in prima categoria lo Sterea Nuova parte con il piede giusto il nuovo anno aggiudicandosi per 3 a 1 il match contro i primi in classifica della Santa Veneranda 0 punti anche per l'Atletico Tavuglia che sono stati superati per 1 a 0 dalla Mercatellese fanalino di coda prima di quest'ultima giornata e con lo sport si è conclusa questa nuova edizione delle Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine io vi rinnovo l'appuntamento a settimana prossima vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti